La prima è resistente, fisicamente com'è la seconda, e la terza tecnicamente com'è, quindi il mondo è cambiato. Come è cambiato? Perché gli altri sforzi, sentiamo vedere il tennis, la velocità, la palla cadestra. Prima si ragionava di più e la gente ovviamente si divertiva, perché chi non si ricorda Mazzola, Corso, Silvoli, Bonitetti, tutti questi grandi giocatori che hanno fatto sognare i propri tifosi con le loro giocate, non ce le possiamo dimenticare. Ma quello è il calcio, non un calcio così rapido, veloce, potente, però tutti raggiunti in 30 metri e si hanno due squadre in riempie. Insomma, a me che mi diretta tanto le morte, mi addormento anch'io per essere a vedere le partite, quindi mi faccio l'imperazione. Sergio, voi...